Il tuo ultimo incarico è classificato rosso. Un'ultima missione. Il tuo obiettivo è di fare in modo che il plutonio torni al sicuro nella nostra base. E un fatale imprevisto. Avvistati. Non è lui, è Mancino. Cercate l'autista. Ora puoi sparare. Che aspetti? Per il ciclo Double Van Damme. La miglior difesa è un attacco forte. Double P. E a seguire Hong Kong colpo su colpo. Venerdì dalle 21.15. Rai 4. La miglior difesa è un attacco forte. La miglior difesa è un attacco forte.